buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa occhio ai giornali come vedete in una cornice completamente natalizia con l'albero di natale insomma non potevamo non creare anche noi l'atmosfera soprattutto perché andiamo in onda al mattino presto e quindi alle 7.30 come tutte le mattine in diretta e quindi è un modo anche per svegliarci con un po di buon umore visto che poi i giornali spesso sono pieni di cronache piene di brutte notizie come vedremo tra poco però oggi intanto vediamo qual è il santo del giorno oggi è una santa che abbiamo anticipato ieri famosissima santa lucia quindi auguri a tutte le lucie che ci ascoltano e ci guardano in questo momento e quindi santa lucia è anche c'è un detto che il giorno più corto che ci sia quello di oggi il 13 di dicembre lucia è nata a siracusa tra il 280 e il 290 da una ricca famiglia è orfana di padre e da giovane viene promessa in matrimonio ad un patrizio la mamma eutichia è malata insieme si recono in pellegrinaggio al sepolcro di sant'agata dove chiedono la grazia della guarigione poi c'è tutta la storia il sole è sorto alle sette e mezzo tramonterà alle quattro e mezzo di oggi pomeriggio il tempo avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime in lieve diminuzione le massime invece saranno in aumento i venti di brezza leggera dai quadranti meridionali il mare sarà poco mosso e avremo foschie banchi di nebbia lungo la costa settentrionale nelle ore più fredde della giornata per domani mercoledì più o meno il tempo sarà simile così come giovedì anche se il cielo sarà nuvoloso per nuvole basse condizioni di stabilità per il resto della settimana dicevamo dei ladri che non si fermano mai che vanno sempre da tutte le parti per rubare chi più o meno sia i locali le colonine del dove ci sono le cassaforti dei distributori di carburanti come è successo per esempio la notte scorsa in un distributore della statale questa è la fotografia del resto del carlino i ladri non dormono mai dopo la notte delle razzie a pesaro una ventina di colpi ce ne sono stati altri ripuliti una villa in campagna e c'è stato poi un assalto al distributore sulla statale guardate con maniere piuttosto spicciole forti prendono e attaccano la colonnina con la cassaforte e la sdradicano completamente portano via tutto non c'è tempo da perdere infatti in quei momenti e nulla conta le telecamere non telecamere non interessa quello che devono fare lo fanno in pochissimo tempo poi sanità siamo il fanalino di coda un disastro la classifica sulla qualità della vita persi 11 posti ultimi negli ospedali entriamo nelle pagine interne del resto del carlino subito con la pagina di fano ospedale unico seri convoca i consiglieri regionali sanità bollente domani l'incontro il sindaco punta a tornare in area vasta per votare i siti l'unico a non essersi ancora espresso è renato claudio minardi che in passato sostenuto l'ipotesi di fosso seggiore francesca puglisi senza ministero ma lei twitta buon lavoro c'è il nuovo governo la responsabile del pd che è fanese per la scuola era data tra i super favoriti per sostituire stefania giannini il rammarico di marcheggiani che dice mi auguro nel suo futuro un impegno per il bene del paese alla corte di pedini 150 architetti grande evento a lucrezia con vittorio sgarbi la svolta del titolare daniele radi del pedini cucine ora puntiamo sul mercato interno il critico d'arte e assessore urbinate ha parlato di estetica e design questa è la sala della dell'azienda pedini c'eravamo anche noi con le nostre telecamere quindi vi faremo vedere poi un resoconto con un con uno speciale un altro furto è stato messo a segno alla isla bonita a fano questa volta rubati anche i soldi per i terremotati una vetrata in frantumi poi la razzia nel bottino anche bottiglie di birra e liquori per il pediatra franchi una condanna a metà al professionista inflitti due anni e otto mesi ma è stato assolto per quattro capi di imputazione all'azienda ospedaliera costituita si parte civile dovrà dare 43 mila euro di danni gargo garco da stasera sul palco domani l'incontro con i fans odio amleto con ugo pagliai al teatro della fortuna domani alle 18 medico e soccorso andiamo a fossombrone fino a marzo il governatore delle marche ceriscioli promette sull'ospedale ieri un incontro con i consiglieri di unione chiarabilli e cipriani ha annunciato anche un finanziamento di un milione e 700 mila euro per i nuovi posti letto a monte felcino invece va a trovare la moglie ricoverata i ladri gli entrano in casa vittima un pensionato 83enne colpa vuoto invece nell'appartamento del vicino e torniamo a pesaro torniamo a pesaro per questo colpo grosso in villa rubati rolex e gioielli ginestretto coppia torna dalla messa e trova una cassaforte la cassaforte vuotata vuota bottino da 200 mila euro poi l'assalto ai distributori ladri al discount di colombarone colonnina di velta la vedete in questa immagine in questa fotografia apriamo adesso il corriere adriatico il corriere adriatico punta sui raid di ladri niente tregua ville negozi sotto assedio nuovo colpo da oltre 200 mila euro trafugati rolex e gioielli di valore poi c'è l'algoritmo svelato con la lista segretata che è stata pubblicata questa mattina è pubblicata sul giornale ospedale unico chiaruccia è l'area più baricentrica allora andiamo a vedere questi due queste due pagine del corriere adriatico eccole qua chiaruccia sito più baricentrico ecco svelato l'algoritmo pubblichiamo la graduatoria segreta o segretata dalla regione il parametro del 30 per cento favorisce le tre località pesarese dunque chiaruccia case bruciate e fosso sei ore poi confermate le nostre anticipazioni l'area fanese è la più facilmente accessibile da tutti i residenti della provincia poi anche qua vedete ceriscioli promette un milione e mezzo di euro poi confindustria che si riunisce confindustria accelerata 4.0 la ripresa è l'obiettivo al teatro rossini di pesero c'è l'assemblea generale dove interverrà anche il presidente nazionale boccia verranno assegnati riconoscimenti alle aziende associate da 25 35 e da 40 anni poi cinghiali da battere il problema dei cinghiali che è stato affrontato in prefettura ieri un vertice via libera il piano di controllo degli ungulati troppi sono gli incidenti mentre la situazione è di stallo invece sulla questione dei lupi che essendo una specie protetta ormai insomma sappiamo tutti non possono essere abbattuti non ci può essere questa selezione e di conseguenza bisogna attivarsi con delle difese passive come per esempio la rete elettrica che può essere elettrificata e può aiutare a tenerle lontani i lupi dal dagli ovili e quant'altro natale a monbaroccio è il successo del gruppo pro loco e comune tengono a ringraziare volontari e operatori poi la pagina di fano falsi operatori del gas allerta della multiservizi dopo la truffa sventata dalla polizia l'azienda invita gli utenti alla vigilanza è stata segnalata la presenza di tecnici non autorizzata illegittima la richiesta dunque di denaro fate attenzione se avete dei dubbi potete chiamare un numero verde che lo vedete pubblicato anche qui sul giornale 800 600 999 attivo da lunedì al sabato dalle 8 e 30 alle 13 e il martedì invece il giovedì dalle 14 e 30 alle 16 e 30 oppure rivolgetevi alle autorità competenti quindi i numeri 112 o 113 l'altra pagina invece eccola qui droni e robot il futuro debutta alla casa della tecnologia una casa che affano la meraviglia della stampante 3d affascinati studenti e anche adulti molto partecipato il programma per il quale adesso si spera anche in un finanziamento sotto invece i docenti dell'istituto battisti che vogliono l'autonomia rivendicato l'indirizzo tecnico dell'innovazione che è assente nella città di Fano alunni primi nell'ambiente assegnata dalla FEI quella che assegna poi la bandiera blu la bandiera verde questa volta alle scuole Corridoni e Padalino sviluppati progetti sul risparmio energetico e il corretto uso dell'acqua questa è la fotografia la facciamo vedere a schermo pieno dei bambini della scuola Corridoni premiati con la bandiera verde dalla valle del Cesano anzi andiamo sulla cronaca di Senigallia prima perché la famiglia di questo di questo signore di questo di quest'uomo 42enne un pizzaiolo di Senigallia lo cerca in vano per ore purtroppo lo hanno trovato senza vita in casa giallo sulla morte di Andrea Bogoni 42 anni l'autopsia dovrà stabilire adesso le cause del decesso l'allarme è scattato poco prima della mezzanotte l'esame verrà effettuato nella giornata di oggi poi si decideranno i funerali dell'uomo sotto invece un'auto che esce di strada e si ribalta sono rimasti feriti due ragazzi tra i 17 e 18 anni l'incidente è venuto poco dopo le 16 in via San Pellegrino è una strada che collega Ripe a Passo Ripe nel comune di Trecastelli poi la pagina principale invece di Senigallia investe l'amico con un SUV gli strappa l'iPhone l'iPhone nuovo ferito e sotto shock l'operaio fa arrestare un disoccupato di Montemarciano rapina e lesioni personali sono questi reati contestati all'uomo dai carabinieri a scuola scuola con il fumo quattro giovani nei guai la polizia ha segnalato i ragazzi con hashish e marijuana al campus di Senigallia adesso invece la valle del cesano dicevamo con questa notizia che riguarda la le festività natalizie anche Mondolfo fa centro con il Natale più bello folla al programma natalizio al castello domenica saranno protagoniste le campane ma c'è stata questa corsa dei birocini dalla fotografia si capisce che cosa di che cosa stiamo parlando questa corsa che ha offerto l'aspetto probabilmente più folcloristico di questa di questa iniziativa una sfida di simpatia e di velocità in questa fotografia vedete un sorridente Nicola Barbieri sindaco di Mondolfo con appunto sopra i birocini di Natale hanno partecipato centinaia di bambini con le loro famiglie tra mercatini e presepi poi a Pergola invece la cioccovisciola promozione solidarietà soddisfatto il sindaco Baldelli invitati anche un assessore di Norcia il prorettore di Camerino due località segnate e toccate dal terremoto sorrisi ed emozione e inclusione siamo a Orciano di Pesaro questa è la magia dello sport serata finale del progetto che ha coinvolto i ragazzi dei centri il mosaico e l'aquilone l'iniziativa volta raggiungere un benessere psicofisico e relazionare vedete un momento di questa esibizione dei ragazzi ok direi che possiamo fermarci qui per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi io non ho altro da aggiungere vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre che questa sera c'è il telegiornale occhio alla notizia alle 20 e 30 per tutte le altre informazioni c'è il nostro sito internet occhio alla notizia punto it a voi tutti gli auguri di una buona giornata grazie a tutti